Un capitano con il quale sarà meglio non fare i conti, Salvatore Menta, almeno per la sua laurea in economia bancaria conseguita a Messina a 24 anni. Battute a parte, dopo la prima settimana da comandante di compagnia, Canicatì, l'ufficiale originario di Catania serba una buona impressione della realtà e degli uomini a sua disposizione. Menta approda la vita militare nel 99 da ufficiale di complemento nell'esercito, sottotenente nel battaglione mobile di Roma. Nel 2001 si congeda e subito dopo, smessa la divisa, inizia a lavorare dietro lo sportello di una banca sempre nella capitale. Contabilità e depositi però non fanno per Salvatore Menta che nel 2003 tenta e vince il concorso nell'arma dei carabinieri e diventa tenente al comando generale di Roma. La sua prima esperienza con il grado superiore di capitano è a San Marcello Pistoiese, compagnia dalla quale oggi è stato trasferito a Canicatì. 37 anni, sposato, padre di una bambina di 8 mesi, per questi primi giorni in città ha scelto di buttarsi a capofitto nel lavoro per conoscere il territorio, la sua gente e le dinamiche criminali. Guardi, l'impressione è ottima perché ritorno a una terra che mi appartiene visto che sono siciliano, nonostante mi vengo a confrontare con reati un po' diversi rispetto a quelli che ho dovuto contrastare lì in Toscana. Sono contento di questa scelta che i miei superiori hanno fatto per Canicatì e spero di dare il meglio delle mie potenzialità. Riceve anche un'eredità importante dal suo predecessore? Sì, il collega Polio ha effettuato un ottimo e eccellente lavoro qui a Canicatì, supportato da un ottimo staff e spero di continuare così in questa linea tracciata e dare il mio contributo per la sicurezza della città. Cosa si aspetta dalle nuove realtà diverse della compagnia? Guardi, intende come realtà di reati. I reati non sono tanti diversi rispetto a quelli che andavo a vedere e contrastare su in Toscana perché principalmente ci sono reati diffusi, reati di strada, quali rapine, furti, danneggiamenti che sono fisiologici in comunque realtà italiana. Sicuramente accanto a questi reati, così come lo spazio dei strumenti, c'è un fenomeno diverso che va comunque controllato e contrastato. Un aneddoto, il suo superiore è stato anche il superiore di suo padre, parliamo dell'attuale colonnello di Giulio, un motivo in più anche per impegnarsi ulteriormente. Sì, penso proprio di sì. Il colonnello di Giulio da capitano ha comandato la compagnia di noto, è stato il comandante di mio padre e adesso la sorte ha voluto che è il mio nuovo comandante. Penso che mi toccherà lavorare di più.